semaforo verde per il bilancio di arpat l'aula a maggioranza ha dato il benestare al consuntivo 2020 dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente polemiche da parte dell'opposizione collandi che ha criticato il ritardo negli investimenti illustrato in consiglio regionale il volume scritto all in erba che ha che un volto sei bambini della scuola elementare mammeli storie di vari generi per metterli alla prova con una scrittura non bloccata dagli stereotipi scolastici mazzeo il nostro impegno resta quello di dare voce a chi non ha voce parere favorevole al bilancio 2020 di arpat l'aula ha approvato a maggioranza il consuntivo dell'agenzia regionale per la tutela dell'ambiente con 21 voti favorevoli e 12 contrari i numeri sono simili a quelli degli anni precedenti eccetto che per l'utile di esercizio oltre 6 milioni di euro dei quali su proposta di arpat stessa l'ottanta per cento restituità la regione e il restante 20 per cento quale riserva legale a copertura delle eventuali future perdite a illustrare l'attività la presidente della commissione ambiente lucida de robertis il documento ha ricevuto anche il voto favorevole di stefano scaramelli di italia viva il bilancio di arpat che abbiamo approvato oggi in consiglio regionale è stata l'occasione per parlare ancora di questo importante ente strumentale della regione un ente che nel territorio fa della prevenzione del controllo del rispetto dell'ambiente delle norme il suo essere 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 per noi un punto di riferimento abbiamo anche in commissione ascoltato il presidente il direttore tecnico il quale ci hanno comunque evidenziato il gran lavoro che in questo momento sta facendo arpat alla luce anche delle tante problematiche che in regione toscana ci sono ma soprattutto un lavoro vicino alle imprese ai cittadini che in questo modo possono davvero mettere in atto tutto quello che serve per rispettare l'ambiente c'è un problema di personale ormai da tanti anni la regione toscana sta affrontando questo nel rispetto però della delle norme nazionali del vincolo che comunque c'è imposto dalle norme nazionali lavoreremo ancora insieme ad arpat per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente anche perché se non è rispettato poi l'ambiente ci fa ci presenta il conto in toscana purtroppo troppe volte questo è successo abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di arpat che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza maggiore importanza rispetto ai temi ambientali rispetto alle indagini preventive rispetto ai controlli rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini dalle istituzioni il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani e questo è un bene che la regione toscana deve tutelare sostenere e finanziare. Tra le opposizioni è stato approvato un ordine di risoluzione di René Galletti del Movimento 5 Stelle mentre è stato respinto quello di Alessandro Capecchi. Il consigliere di Fratelli d'Italia ha evidenziato come esista un problema di organizzazione sia territoriale che funzionale di arpat. Un'organizzazione più seria, più corretta e approfondita garantisce controlli anche ordinari in linea con le indicazioni della regione. Parere negativo anche per Marco Landi della Lega non tanto dal punto di vista contabile ma sul piano degli investimenti in forte ritardo. Arpat è un elemento essenziale dell'attività della nostra regione e finalmente è stato approvato una nostra proposta di risoluzione, un nostro atto che va in favore dell'aumento delle assunzioni e soprattutto del... scusate se posso ricominciare da capo perché mi sono... l'importanza di Arpat all'interno del sistema regione toscana è sicuramente essenziale e siamo contenti che finalmente dopo averlo più volte presentato il nostro atto che va nella direzione di aumentare le risorse per le assunzioni del personale e la fornitura di materiale, attrezzature e mezzi per il personale stesso sia stata approvata dalla maggioranza che ha riconosciuto che in questi anni c'è stata magari una minore attenzione a quelle che erano le risorse di quest'ente che diventa fondamentale quando in questo momento, a breve, arriveranno molti fondi anche per il PNRR e per numerose opere e dovranno essere tutte oggetto di controlli e valutazioni. Purtroppo dobbiamo dire che ci siamo dovuti astenere perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale Arpat la mancanza appunto di risorse che si avevano non le ha messi in condizione di poter avere, di poter portare a termine persino gran parte della programmazione che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33% e quindi questo fa capire che l'investire in Arpat è fondamentale e che la regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Il bilancio di Arpat denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse paradossale perché l'azienda ha chiuso un bilancio di oltre 6 milioni di utile di cui l'80% però viene riassorbito dalla regione in virtù della vittoria che l'agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'Imo. Detto questo noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'agenzia per svolgere a pieno il proprio compito perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del Cheu, abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre possibili opere inquinate dalla presenza del Cheu e conseguenti bonifiche. Il PD ha ritenuto di non votarlo, è un errore per noi gravissimo, non tiene conto della situazione eccezionale dal punto di vista ambientale che la regione sta attraversando non solo per le vicende del Cheu e quindi ci aspettiamo che la regione cambi idea e arrivi nuovamente a impostare una politica ambientale diversa. Arpat è un ente fondamentale per la Toscana perché deve effettuare i controlli e tutte le verifiche necessarie per la salute dei cittadini toscani. Oggi riscontriamo dal bilancio di Arpat un utile di oltre 6 milioni di euro. Questo già era successo con un utile dell'anno scorso di oltre 2 milioni, siamo arrivati a 6 milioni. Questo non è accettabile perché servono investimenti forti affinché questa agenzia compia il proprio lavoro. Noi pensiamo invece che questo tesoretto venga messo da parte, sia fermo sul piano degli investimenti nell'assessorato perché sarà utile questo tesoretto per sanare quello che è il disavanzo sulla sanità pubblica. Questo non lo possiamo accettare. Non possiamo accettare che Arpat e tanti altri investimenti che devono essere fatti nei diversi assessorati siano bloccati. Quindi abbiamo espresso un voto contrario anche perché Arpat in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che Arpat purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi soprattutto con delle professionalità specifiche nel settore e in diversi settori come quello delle verifiche e dei controlli che vengono fatti in ambito marino-costiero. Crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come Arpat oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli. Che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta Cheu, non può permettersi. Sei interpreti e il primo impatto vero con la scrittura. In Consiglio regionale è stato presentato il risultato del progetto Scrittori in Erba che dà anche il titolo al libro. Protagonisti, gli studenti degli elementari dell'Istituto Comprensivo Mammeli di Firenze. Chi meglio dei bambini, una delle categorie più tartassate dal lockdown, può rappresentare un segnale di ripartenza, ha detto il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. La decisione del Consiglio regionale di far pubblicare il lavoro attento di questi giovanissimi scrittori in Erba diventa il minimo riconoscimento al loro impegno. Un doveroso atto per avviare il dialogo con la nostra istituzione e trasmettere loro un deciso segno di attenzione, ha aggiunto la Presidente della Commissione Cultura, Cristina Giacchi. Un progetto bello, in linea con quello che è un po' l'impegno che avevamo preso all'inizio della legislatura. Dare voce a chi ha meno voce. I nostri bimbi in questo periodo terribile della pandemia hanno sofferto, hanno sofferto più di tutti noi. È mancata la socialità, gli sguardi con i loro compagni di classe, con le amiche, con gli amici. Noi siamo riusciti a ristorare tante categorie, con fatica, ma non siamo riusciti a ristorare nessuno di loro, di quegli abbracci persi, di quei momenti di socialità mancata. Un anno in cui attraverso la DAD hanno continuato a formarsi. Io penso, e l'ho detto più volte, che la didattica a distanza, per quanto sia stata importante, ringrazio tutti i docenti per lo sforzo che hanno fatto di cambiare metodologia di insegnamento, comunque abbia dato qualcosa in meno. Ci sono tante ragazze e tanti ragazzi che non hanno avuto la possibilità di accedere alla formazione perché vivevano in zone in cui non c'era copertura. Tante famiglie, specialmente quelle più disagiate, non permettevano la possibilità di potersi formare e crescere. E' un anno perso in quest'età, è qualcosa che segna la vita di ciascuno di loro. E' bello invece vedere, e questo è un po' un contrappasso, che in questo periodo sono riuscite a venire fuori le migliori esperienze e la capacità anche di saper guardare con speranza al futuro. In questo racconto c'è tutto questo. Torinerbe è un bel progetto che il Consiglio regionale ha voluto sostenere e oggi presentiamo perché ha tanti elementi di valore. Uno su tutti il fatto di aver trasformato un tempo difficile per i ragazzi e le ragazze delle scuole, come quello della pandemia, costretti a star lontani, in un tempo fecondo di scoperta di novità, in cui loro hanno imparato qualcosa di nuovo e si sono appassionati ad un'attività difficile per tanti ragazzi e ragazze, come la scrittura. In generale i nostri studenti, i giovani, sono molto abituati a usare la scrittura nei social, la scrittura per... E sperimentano anche la fatica della comunicazione. Ecco, e allora io trovo che questo progetto che le ha messi a diretto contatto con l'esprimere quello che si pensa e quello che si prova, a dare un nome alle emozioni, ai pensieri, alle idee, con la scrittura sia stato un lavoro fondamentale ed è un lavoro che apre la mente e ben dispone anche ad accogliere gli altri e quindi alla lettura, a ricevere parole senza significati. A raccontare l'evoluzione delle attività è stata Sandra Landi, curatrice dell'iniziativa. Ci siamo incontrati tutti insieme una volta alla settimana, per un'ora e mezzo, poi singolarmente per un'ora ciascuno, per far nascere l'amore per la scrittura. Infine è toccata a due dei sei protagonisti, Tommaso e Matilde, raccontare le loro esperienze. Il primo con una passione particolare per le storie fantasy. La ragazza invece per la poesia. In questo libro c'è tanto amore per la scrittura e tanto desiderio che si pratichi la scrittura per esprimere emozioni, si liberano i pensieri, si trovi le parole, si superino, a volte quei procedimenti noiosi della scuola, per esempio come l'uso del vocabolario. Sei piccoli scrittori in erba. Io non so se diventeranno scrittori, ma so che hanno imparato ad amare la scrittura e la lettura, perché queste sono due interfacce dello stesso amore. Io l'ho voluta fare perché all'inizio a scuola nei temi avevo dei problemi e quindi è stata un'opportunità per esercitarmi. All'inizio abbiamo fatto una presentazione per iniziare il nostro libro e poi abbiamo continuato con altri tipi di generi di libri, ad esempio il fantasy, avventura, le cronache e anche le poesie. In questo libro ci sono vari tipi di poesie, come la poesia visiva, gli haiku, i tautogrammi e le abbiamo fatti, ognuno di noi ne ha fatta una. E sì, mi piacciono molto perché posso esprimere la mia opinione, posso inventare quello che voglio. Io ho scritto una poesia sul mio sport, perché non potendo fare la cronaca sportiva io ballo e quindi ho fatto una poesia sul mio sport. Quindi in questa poesia ci sei che? Sì, la descrizione dei miei sentimenti mentre ballo, le emozioni.